avevo fatto tre o quattro film l'ultimo era il ferroviere di pietro gel che ha avuto molto successo e poi stentavo a trovare lavoro perché non ero romano e vi era un po una mafia come italia la mafiosità è una malattia endemica non è solo siciliana non ero romano e quindi tutti gli autori erano romani tra loro e io ero un po chi è questo che viene dal veneto e quindi faticavo non avevo soldi e un giorno ero probabilmente alla disperazione avevo le ultime mille lire e dovevo decidere se andare in latteria a mangiarmi una mozzarella due uova con un bicchiere di latte o prendere un taxi andare da de laurentis questo mitico produttore che io non conoscevo a dirgli che avevo delle idee volevo lavorare e ho deciso di non mangiare e di andare a de laurentis e presi questo taxi a un certo punto del viaggio il tassametro è scattato sopra le mille lire che io avevo e quando siamo arrivati era 1600 una cifra enorme per l'epoca io sono sceso e dandomi un'aria molto signorile ho detto laudista lei mi attende naturalmente e questo sì signor conte ma nominato conte per la corsa stava entrando un camion negli stabilimenti e io mi sono nascosto dietro il camion perché non avevo un passi per entrare e quindi mi sono trovato davanti alla segretaria ho detto vorrei parlare con il signore lei chi è sono vincenzoni ero quello a cui lei da tre mesi diceva bugie io telefonavo chi parla vincenzoni il dottore non c'è il dottore in america il dottore griglioni e improvvisamente mi ritrova ma chi gliel'ha detto di venire io signor o signorina che signorina io non ho mai preso a calcire il culo una signorina nella mia vita non vorrei che lei fosse la prima io parlo con de laurentis ho messo da parte e sono appiombato nella stanza c'era de laurentis seduto dietro la sua scrivania monumentale carlo lizzani il regista e un avvocato che si chiamava borgognoni qui della rete che lei cosa vuole e che volevo parlare con lei chi l'ha fatta entrare tratto io e c'era segretario non paese che io sono entrato vado via subito che chiamano la polizia non fa in tempo perché ero esasperato capito per fortuna c'era lizzani che mi conosceva vagamente ma scusa dino abbiamo finito lo conosco vincenzoni è un giovane uno scrittore ha delle idee perché non lo ascolti siccome glielo diceva un regista ti do un quarto d'ora che c'è io mi ero portato dei soggetti li ho messi qui sul tavolo ho detto il primo è così che la grande guerra e lì l'ha preso e poi secondo i due nemici che ha fatto i figli con sordi david niven l'ha preso il terzo il gobo l'ha preso il quarto sacco e vande a un certo punto mi ha fermato e mi ha detto io le ho dato 15 minuti sono due ore e mezza che parla ha raccontato sette soggetti li compierò tutti non è mai successo nella storia del cinema mondiale che uno compri 7 quanto vuole io ho bisogno di 100 mila e 200 pagare l'affitto non lo so allora si è rivolto all'avvocato di quanto gli diamo e questo avvocato ha detto intanto gli facciamo un contratto di esclusiva gli diamo un milione all'anno perché deve lavorare solo per noi questo qui a idee secondo i soggetti quanti sono sette gli diamo un milione l'uno via ho fatto dei rapidi calcoli 7 milioni un milione l'anno va bene dice vieni domani mattina le 9 facciamo il contratto oddio mi sono stato sono arrivato alla porta mi sono ricordato il taxi ho detto senta de laurenti sia un problema o solo mi mille lire in tasca taxi così va bene ho capito bianchi c'è sempre un ragioniere che si chiama bianchi nelle produzioni è venuto si dottore quanti soldi abbiamo in casa ma dice ho fatto le paghe di giovane che le altre sono rimasti due milioni prendi due milioni e dali a sto ragazzo ragazzi due milioni dell'epoca era come dire 60 milioni di oggi di lire parlo di lire oddio mamma dopo un po è venuto questo due milioni poi c'erano delle banconote da 10 milioni grandi come un lenzuolo per fare due milioni un tacchino una roba non sapevo più dove metterle tutte le tasche ci vediamo domani mattina sono uscito è visto il taxi e non c'era il sista era sul sedile in coma dalla fame perché era oramai le due pomeriggio e dalla paura che io l'avessi bidonato infatti l'ho svegliata c'è tornato signor conte il coco ha sospettato in realtà avevo pensato se non combinavo c'era una finestra nel corridoio che dava sul cane sulla la corsa delle levrieri e mi vedevo scappare in seguito delle brevi e invece non era andata bene e allora sono salito guardiamo ha prodotto c'ho la fame c'è un ristorante dove lei avrebbe vorrebbe mangiare volentieri c'è ma è quello per i signori andiamo in quello per i signori lei mi ha portato fortuna e siamo andati l'avvisato a pranzo abbiamo fatto una mangiata solo che lui non sapeva che anche per me era il primo vero pasto dopo mesi di digiuno